Insieme da una vita, nella gioia e nel dolore, Emanuele e Fulgenzia, marito e moglie Padovani, 80 anni lui, 85 lei, sposati da 55 anni, si sono ammalati contemporaneamente. Contemporaneamente sono stati ricoverati, sottoposti al medesimo intervento e insieme sono stati accolti nella stessa stanza di degenza. Tra qualche giorno, sempre insieme, verranno dimessi. Un'accoglienza, una cura a formato famiglia, quella resa alla coppia dall'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice, in provincia di Padova. Gli sposi non camminavano più per via dell'artrosi all'anca, così i clinici dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia, diretta dal dottor Gianluca Bisinella, hanno creato per loro un percorso personalizzato a due. Gli anziani coniugi si sono presentati in ambulatorio insieme alla figlia, lamentando forti dolori agli arti inferiori, che nell'ultimo anno avevano ridotto di molto le loro autonomie. Avevano provato diverse cure mediche riabilitative, spiega il dottor Gianluca Bisinella, ma senza beneficio. Il morale era ovviamente a terra dalla visita, emerso che entrambi risultavano affetti da una grave forma di artrosi all'anca. In questi casi, l'unica soluzione è un intervento chirurgico di protesizzazione. È stata così allestita una stanza a due letti solo per loro, anche per ridurre il disorientamento che in tutti e soprattutto nei grandi anziani il soggiorno ospedaliero comporta. L'organizzazione sanitaria dell'URSS-6 ha permesso a marito e moglie di condividere assieme questo percorso.